Siamo con Francesco Foggia, eletto consigliere con 593 voti. Adesso, questa sera qui dalla piazza di Costiera, come vogliamo ringraziare coloro che le hanno attribuito 593 preferenze? Dici bene, 593 preferenze più 46 nulli. Questo è un dato che ci deve fare riflettere. Significa che questo dato comunque si è consolidato grazie al lavoro, alla cultura del lavoro e del sacrificio. C'è la politica del fare e del fare fare. Sono stati 593 consensi, veramente tutti dati con il cuore in mano, perché ogni consenso del genere ha un cuore e un'anima. Ringrazio tutti i mazaresi che mi hanno regato questo grande sogno. Ero il risultato esperato, però sognare non costava nulla. Ho sognato bene, naturalmente adesso il sogno si è comunque fermato e fermo a metà. C'è ancora il ballottaggio e speriamo bene che i mazaresi ci diano ancora fiducia. Una cosa è certa, Francesco Foggia è arrivato il primo di una coalizione importantissima, dove fa parte di questa coalizione il Presidente del Consiglio Comunale, lo stesso Giovanni Acono, un altro consigliere che ha preso attrettanto abbastanza voti. E questo significa che la nostra lista è stata una lista di otto rispetto. Insieme si può, ha dimostrato di essere la lista più forte della coalizione e questo grazie a tutti e 30 candidati. Infatti devo ringraziare tutti e 30 candidati che comunque ci hanno sostenuto e ci hanno portato quasi a 3.000 voti. Essendo una lista civica significa che è un gran bel risultato. Detto questo, adesso dobbiamo lavorare nell'interesse di raggiungere questo grande obiettivo, che è quello di coronare questo sogno, che è il Sindaco Vito Torrente. Io devo ringraziare Borgata Costiera perché proprio qui non solo ho preso dei bei consensi, ho battuto tutti i sindaci che erano candidati perché ho preso 81 consensi. Questo significa che comunque Francesco Foggia ha lavorato e la Borgata Costiera ha risposto, come hanno risposto tutti i quartieri come Mazzara 2, come Costiera, come la zona di Piazza Macello, Villaggio Pescatore e Piazzale Europa. Questo significa che hanno attenzionato veramente il mio modo di fare politica. E io devo ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Una cosa è certa, continuerò a vigilare, a portare avanti queste tematiche. Lavorerò per le periferie ma lavorerò per tutta la città di Mazzara del Vallo perché Francesco Foggia ha preso i consensi in 49 sezioni su 50 e dove ho preso zero mi hanno annullato 4 voti. Quindi significa che Francesco Foggia è presente in tutta la città. Io devo ringraziare veramente tutta la cittadinanza perché ancora una volta mi ha dato fiducia. Io ho dimostrato di saper fare politica, con molta umiltà lo dico, e la città mi ha premiato. Naturalmente questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Lavorerò sempre in sinergia con i cittadini, ma anche con la politica mazzarese. Spero tanto che il 7 e l'8 giugno si voterà Vito Torrente perché con Vito Torrente posso colonare un altro sogno che me lo tengo per me. Quindi dico semplicemente, invito i cittadini mazzarese con molta umiltà, veramente a valutare bene, con molto razziocinio, il consenso del ballottaggio perché sicuramente saremo noi i responsabili della città di Mazzara del Vallo, saremo noi i responsabili del futuro della politica di Mazzara del Vallo, ma una cosa è certa, Mazzara risponderà e risponderà sempre e comunque con la massima serietà, con la massima sincerità, ma una cosa è certa, io ho preferito di appoggiare questo progetto e dico sempre, meglio una sconfitta pulita, non una vittoria sporca, ma sono convinto che alla fine questo lavoro e questa mia coerenza pagherà. Quindi viva Ciccio Foggia, viva Insieme si può, viva tutta la coalizione, ma soprattutto un viva Vito Torrente e viva Mazzara del Vallo. Perché hai votato Ciccio Foggia e chi voterai al ballottaggio? Prima il caro amico, per il sindaco Torrente, però un caro amico Ciccio Foggia, c'è stato potente, si è sempre impegnato in politica, ha fatto sempre qualcosa di buono, per questo. Una battuta, perché hai votato Ciccio Foggia e chi voterai al ballottaggio? Io ho votato Ciccio Foggia perché il mio fratello del ballottaggio sarà torrente per me. Allora io voterò sempre il candidato Vito Torrente, perché è stato onorato il programma e quindi praticamente continuerò sempre a votare Vito Torrente. E Ciccio Foggia? Ciccio Foggia già l'abbiamo votato, quindi già è sicuro che Ciccio Foggia ce l'abbiamo dentro, quindi siamo contentissimi per questo. E perché Ciccio Foggia? Ma perché è un amico e se lo merita. Perché ha fatto comunque tanto, sia per la città di Manzara che per Campobello, quindi perché crede in lui per quello che si prospetta per il futuro, pure per i suoi progetti che ha. E per il ballottaggio sei anche tu indecisa o hai le idee chiare? No, per il ballottaggio penso di votare Torrente, quindi sono sicura, diciamo. Ciccio Foggia perché senza dubbio è uno dei consiglieri che ha lavorato di più per i cinque anni di amministrazione. Torrente perché appunto ha progetti praticamente che ci stanno bene e quindi votiamo Torrente. Ma per me sarà sempre Ciccio Foggia e sempre Vito Torrente. Perché intanto è una persona umile, una persona che è stata sempre presente nei cinque anni che è stato consigliere e poi voterò Torrente io per il programma che ha detto nelle giornate in cui c'è stato prima del ballottaggio le votazioni. Secondo me intanto Ciccio Foggia è un ragazzo che ha avuto molte esperienze finora e credo che darà molto alla città come consigliere comunale. Penso che è giusto votare Ciccio Foggia perché abbiamo visto che ha fatto molto per Costiera e per tutta Mazzara. E al bollottaggio chi voterai? Ma è Venzo Torrente. Il normale voteremo Torrente. Torrente come sempre. Perché Ciccio Foggia? Perché io voto Ciccio Foggia. Perché Ciccio Foggia è uno che si interessa per la città. Votiamo Ciccio Foggia perché è l'unico che c'è stato quel cos'era e ha dato forza al paese, alle persone. Quindi preferisco Ciccio Foggia e magari con lui c'è Torrente e forza Torrente. Ho votato Ciccio Foggia perché è stato l'unica persona finora che si è rivolto verso Costiera. E anche se tutti dicono che Costiera fa parte di Mazzara, effettivamente nella realtà non viene considerata così. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia. Ciccio Foggia.